Musica Firmato il nuovo DPCM da stanotte coprifuoco dalle 22 bar e ristoranti chiusi alle 18. Scatta alla mezzanotte il nuovo decreto firmato dal Premier Conte. La Sicilia è stata classificata per ora come zona verde, ovvero quella soggetta a minori restrizioni. Nel nuovo DPCM, che rimarrà in vigore fino al 3 dicembre, c'è lo stop anche a teatri, cinema, musei, sale e bingo e centri di scommesse. Restano aperti parrucchieri ed estetisti, sospesi tutti concorsi, didattica a distanza per scuole superiori in presenza e per le altre. Mercato nel limbo. Aspettiamo il DPCM. Per ora riapre il mercato settimanale. Appare un'opzione difficile da mettere in campo anche al termine di un nuovo confronto con gli ambulanti. Insieme ai capigruppo di maggioranza, il sindaco Lucio Greco ha cercato di evitare il muro contro muro con gli esercenti. Si attenderà il prossimo DPCM. Prima di decidere, un aggiornamento potrebbe arrivare giovedì. Per Greco, in ogni caso, sarà fondamentale avere un mercato sicuro anche sul fronte anti-Covid. Ne va della salute di tutti, ha spiegato, non mettiamola sul piano del morire di Covid o morire di fame. Condominio contro Caltacqua. Un intero condominio con 36 famiglie è rimasto senza forniture idriche nel pieno della scorsa estate. L'azienda Italo-Spagnola, nonostante le richieste ufficiali di rimborso partite dall'amministratore dello stabile per il periodo di assenza d'acqua, non ha dato seguito. Così è stato deciso di agire in giudizio per chiedere un risarcimento. Addetto alla sosta ancora aggredito, inspiegabile atto di violenza. Un addetto alla sosta è stato aggredito due volte in appena dieci giorni. L'ultimo episodio si è registrato ieri mattina, intorno alle 10.30, nei pressi del parcheggio Multipiano Arena. È stato pestato selvaggiamente per una multa da 28 euro. Dalle immagini di videosorveglianza si evince una violenza inaudita, racconta Francesco Trainito, amministratore delegato Ghelas. Abbiamo denunciato l'aggressione in commissariato, dura condanna del sindaco e dell'UGL. Rifiuti, nuova proroga a Tecra. Il sindaco Lucio Greco ha firmato un'ordinanza che proroga per l'intero mese l'affidamento del servizio rifiuto alla campana Tecra. Con la gara d'appalto andata deserta per cinque volte senza che ci sia ancora la possibilità per bandire quella da sette anni, il sindaco ha disposto la proroga per evitare il blocco delle attività. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano il DPCM firmato ieri da Conte scatta alla mezzanotte il nuovo decreto firmato dal Premier. La Sicilia è stata classificata per ora come zona verde, ovvero quella soggetta a minori restrizioni. Nel nuovo DPCM che rimarrà in vigore fino al 3 dicembre c'è lo stop a teatri, cinema, musei, sale scommesse, centri e sale bingo. Restano aperti i parrucchieri ed estetisti, sospesi tutti i concorsi. Didattica a distanza per le scuole superiori in presenza invece per le altre. Sentiamo. Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, bar e ristoranti chiusi dalle 18, stop a teatri, cinema e musei. Restano aperti i parrucchieri ed estetisti, sospesi i concorsi. Sono questi i punti salienti del nuovo DPCM che il Presidente del Consiglio Conte ha firmato questa notte per l'emergenza coronavirus. L'Italia viene divisa in tre fasce ed il Ministero della Salute indicherà le regioni in zone verdi, arancioni e rosse. Al momento la Sicilia risulterebbe zona verde, quelle con minore restrizioni, ma nelle prossime ore sembra sempre più probabile che venga dichiarata zona arancione, con ulteriori limitazioni. Il DPCM prevede anche la chiusura di centri commerciali nel fine settimana e la possibilità per le regioni dove il contagio è galoppante di ulteriori misure di restrizioni agli spostamenti che possono arrivare fino al lockdown. Ecco nel dettaglio cosa è previsto per le zone verdi come la nostra isola. Rimane l'obbligo della mascherina all'aperto e al chiuso, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Oltre quest'ora ci si potrà muovere soltanto per comprovate esigenze, dunque per motivi di lavoro, salute o urgenza, che dovranno essere giustificati con l'autocertificazione. È fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati. Autobus, metropolitane e treni regionali potranno viaggiare con una capienza massima del 50%. Per le scuole è prevista la didattica a distanza al 100%, ma solo per quelle superiori. È prevista invece l'attività in presenza per scuole elementari e medie, ma con uso obbligatorio delle mascherine. Rimane il divieto di apertura per bar e ristoranti dopo le 18. Potranno dunque rimanere aperti fino e soltanto a pranzo. Oltre ai cinema e ai teatri verranno chiusi anche musei e le mostre. Sospesi tutti i concorsi, ad esclusione per quelli del personale sanitario. Sospesi anche gli esami per l'abilitazione professionale. Nel fine settimana e in tutti i giorni festivi sono chiusi centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, alimentari, tabaccai ed edicole. Smart walking ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato e ingressi differenziati del personale. Sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casino. Duro colpo anche per lo sport. Sospese tutte le attività, se non quelle individuali. Non si potrà... Il sindaco Lucio Greco ha parlato di bollettino di guerra riferendosi ai contagi da Covid in città. Anche nelle ultime 24 ore la curva preoccupa 35 i positivi. 30 si trovano in isolamento domiciliare. 4 sono ricoverati al Vittorio Emanuele. 1 invece è stato trasferito al Santelier in rianimazione. Nello stesso reparto si registra il decesso di un paziente giunto da fuori provincia. Sono solo 2 invece i guariti in città. 13 i positivi sono stati riscontrati a Niscemi, dove ci sono anche 20 i guariti. 12 a Mazzarino. Un buterese è stato ricoverato al Vittorio Emanuele. Positivo, con sintomi. D'Asp fanno sapere che i numeri così elevati sono dovuti a una percentuale altrettanto rilevante di tamponi effettuati. Ci hanno permesso di contenere molteplici focolai. Spiegano. Cambiamo argomento. Il mercato nel limbo si aspetta il DPCM. Per ora riapre il mercato settimanale. Riaprire il mercato settimanale appare un'opzione difficile da mettere in campo, anche al termine di un nuovo confronto con gli ambulanti, insieme ai capigruppi di maggioranza. Il sindaco Lucio Greco ha cercato di evitare il muro contro muro con gli esercenti. Si attenderà il prossimo DPCM prima di decidere. Un aggiornamento potrebbe arrivare giovedì. Per Greco, in ogni caso, sarà fondamentale avere un mercato sicuro anche sul fronte anti-Covid. Ne va della salute di tutti, ha spiegato. Non mettiamola sul piano del morire di Covid o morire di fame. Sentiamo. Un centro storico insolitamente blindato, con strade presidiate da carabinieri, polizie e vigili urbani, ha accolto la delegazione degli ambulanti del mercato settimanale, che ieri hanno avuto l'ennesimo confronto con il sindaco Lucio Greco sulla possibilità di far ripartire le attività in sicurezza. Precauzioni ritenute necessarie dopo l'assedio degli scorsi giorni, nonostante ieri la situazione fosse molto più serena. Per ora, comunque, riaprire il mercato settimanale appare un'opzione difficile da mettere in campo. Anche al termine di un nuovo confronto in aula consigliare con gli ambulanti, insieme ai capigruppo di maggioranza, quelli di opposizione non hanno partecipato, il primo cittadino ha cercato di evitare il muro contro muro con gli esercenti. Si attenderà il prossimo DPCM prima di decidere. Un nuovo aggiornamento potrebbe arrivare giovedì, ma la soluzione non è piaciuta ai rappresentanti dei commercianti che non hanno credito nemmeno l'accoglienza. Mi è sembrato strano intanto trovare tutte queste forze dell'ordine quando noi già avevamo comunicato che era una rappresentanza che veniva a parlare con il sindaco e l'amministrazione. Prima cosa. Seconda cosa, abbiamo trovato un atteggiamento, sì di apertura da parte del sindaco, ma un atteggiamento dove abbiamo trovato i capigruppo che noi rispettiamo i pensieri di ognuno di loro, ma ahimè forse dimentichiamo che da tre settimane questi padri di famiglia non lavorano, non per chiusura di DPCM, ma per un'ordinanza del sindaco. Quindi la loro rabbia è ancora di più, oggi ci aspettavamo, così come eravamo rimasti da parte dell'amministrazione, di incontrarci per trovare di comune accordo le linee guida per una riapertura. Fermo restando il nuovo DPCM che dovrebbe uscire a giorni e dove magari possibilmente parlerà di chiusura e quindi abbiamo finito tutti di parlare. Ma questo doveva servire, questo lasso di tempo, doveva servire per organizzarci tutti assieme, rispettando la salute di ognuno di noi, per vedere come poter riaprire un mercato in sicurezza. E ahimè devo dire che forse stiamo perdendo ancora tempo. Ci ha fatto trovare l'esercito fuori, tipo che eravamo delinquenti, io non so la sua idea degli ambulanti, dei padri di famiglia, giusto no? E invece di darci delle linee per capire come aprire assieme, stabilire, fare un tavolo tecnico per partire il mercatino settimana di Gela, cosa ha fatto? Ci ha fatto trovare il Presidente del Consiglio Comunale che l'appoggiassero sul discorso di rinviare a giovedì. Guardi che queste cose non si fanno. Noi veniamo da fuori, facciamo delle spese, affrontiamo dei viaggi, ti metti in macchina, arrivi qui, ti aspetti una cosa, come eravamo rimasti? Perché noi venerdì siamo rimasti, martedì ci vediamo e stabiliamo come fare ripartire il mercato. Non ci sono allo stato attuale paesi oppure città che non c'è il mercato. C'è stato qualche paese ma già ce l'hanno riattivato subito. Ma tutti i paesi limitrofi qua, Niscemi, Mazzarino, Caltagirone, i mercati sono tutti, il mercato non c'entra niente. Ora abbiamo fatto tre incontri che secondo me non sono serviti a niente. Ora ci dice di ritornare di nuovo giovedì. Non lo so quello che può succedere giovedì. Greco in ogni caso resta sulle sue posizioni. La priorità per il primo cittadino rimane un mercato sicuro, anche e soprattutto sul fronte anti-Covid. Credo che questa sia la scelta più saggia, più opportuna, non per volere sfuggire a provvedimenti che sicuramente da qui a pochi giorni saremo chiamati a emettere, ma perché con il nuovo DPCM non si esclude nulla, non sappiamo quali regioni saranno dichiarate aree rosse, non sappiamo quali ulteriori prescrizioni verranno emesse. E quindi queste 48 ore li abbiamo chiesti tutti assieme, nella piena consapevolezza di poter prendere al momento giusto, al momento opportuno, la decisione più saggia nell'interesse di tutti, valutando i pro e i contro qualunque sarà il provvedimento, sia dal punto di vista sanitario e sia dal punto di vista economico e sociale. È stata approvata l'istituzione della consulta per il decoro urbano, l'ha deliberato il Consiglio Comunale, riunitosi ieri sera in videoconferenza a seguito delle misure anti-Covid. 13 voti favorevoli hanno sbloccato la proposta portata in aula dalla Commissione Consigliare Urbanistica, presieduta da Giuseppe Morselli. La consulta avrà funzioni di proposta e verifica su aspetti relativi alle scelte estetiche e urbanistiche su installazione e opere d'arte che l'amministrazione comunale decidesse di collocare in città. In base a quanto proposto dalla Commissione Urbanistica, ne faranno parte a titolo gratuito esperti e tecnici del settore, ma anche artisti e rappresentanti dell'amministrazione comunale. Potrà rilasciare pareri comunque non vincolanti. L'input per dare vita alla consulta è arrivato all'artista Giovanni Iudice, che ne farà parte a sua volta a titolo gratuito e che da sempre cerca di dare un contributo personale per tentare di riqualificare il volto deturpato della città. L'Aula Virtuale ha approvato anche tre debiti fuori bilancio, completando l'interordine del giorno prodisposto al Presidente dell'Assise Civica, Salvatore Sammito. Un intero condominio con 36 famiglie è rimasto senza fornitura idrica nel piano della scorsa estate. L'azienda Italo-Spagnola, nonostante le richieste ufficiali di rimborso partite dall'amministratore del condominio per il periodo di assenza d'acqua, non ha dato seguito. Così è stato deciso di agire in giudizio per chiedere un risarcimento. Sentiamo. 36 famiglie per oltre un mese nel pieno della scorsa estate rimasero senza forniture idriche per il condominio Galassia di Via Venezia. Si fece ricorso agli autobotti con esborsi fino a 1.500 euro, nonostante venga versato ogni tre mesi un canone non inferiore ai 3.200 euro. Dopo quanto accaduto, i condomini e l'amministratore hanno dato mandato di agire in giudizio contro Caltaque. I tecnici dell'azienda Italo-Spagnola intervennero solo dopo diversi solleciti. A distanza di qualche settimana però si verificò un ulteriore guasto con relativo stop alle forniture. Ancora una volta nel silenzio degli uffici di Caltaque, senza interventi disposti dall'azienda, l'amministratore, l'ingegnere Carmelo Aiello, fu costretto a contattare altri tecnici. Dopo l'ennesima odissea fatta di reclami, disservizi e mancate risposte, Caltaque è rimasta silente anche davanti alla richiesta di rimborso avanzata dal condominio al ristoro del periodo di mancata erogazione. Sono state inoltrate tutte le fatture dei pagamenti delle autobotti, servite a dare acqua ad un intero condominio. Da Qualtacqua era stato inizialmente comunicato che il rimborso ci sarebbe stato. Come spiega l'amministratore Aiello, però da quel momento in poi è calato il silenzio. La scelta di andare in giudizio serve, secondo quanto riferito dallo stesso Aiello, a dare un messaggio all'intera città per non continuare a pagare un servizio che non viene regolarmente garantito. Il condominio ha dato mandato all'avvocato Tommaso Vespo e verrà chiesto un risarcimento all'azienda Italo-Spagnola. I campioni d'acqua prelevati negli scorsi giorni dai punti di approvvigionamento a capo soprano in ospedale erano risultati torbidi, superando i valori consentiti. Così il sindaco Lucio Greco ha subito firmato l'ordinanza di divieto assoluto dell'uso dell'acqua a fine alimentari. Ieri il provvedimento è stato revocato. I tecnici ASP, effettuando ulteriori analisi, hanno dato conferma che i valori sono nuovamente rientrati entro i parametri previsti. Non è la prima volta che l'acqua risulta torbida, ben oltre i limiti consentiti. Il sindaco aveva disposto il divieto assoluto per l'intero quartiere di Capo Soprano. Addetto alla sosta ancora una volta aggredito. Un addetto alla sosta è stato aggredito due volte in appena dieci giorni. L'ultimo episodio si è registrato ieri mattina intorno alle 10.30 nei pressi del parcheggio Multipiano Arena. È stato pestato selvaggiamente per una multa da 28 euro. Dalle immagini di videosorveglianza si evince una violenza inaudita, racconta Francesco Trenito, amministratore delegato della GELAS. Abbiamo denunciato l'aggressione in commissariato. Sentiamo. Aggredito per ben due volte nello spazio di pochi giorni, entrambe le volte solamente per aver fatto il proprio dovere, picchiato selvaggiamente con l'unica colpa di aver elevato un verbale a due auto in sosta non regolare. È capitato a un addetto della sosta della GELAS, prima sabato scorso in Via Palazzi a Capo Soprano, e poi ieri mattina intorno alle 10.30 nei pressi del parcheggio Multipiano Arena. Entrambe le volte è stato insultato e picchiato selvaggiamente per una multa da 28 euro. Dalle immagini di videosorveglianza si evince una violenza inaudita, racconta Francesco Trenito, amministratore della GELAS. Nonostante l'operatore sia lo stesso, però, i due episodi di violenza non sembrerebbero comunque collegati. Intanto i vertici della multiservizia hanno provveduto a denunciare l'aggressione in commissariato. Gli agenti di polizia sono in possesso delle registrazioni, da dove si vede chiaramente il pestaggio, l'autore, il suo veicolo e il numero di targa. Ferma la condanna anche dall'UGL, che chiede maggiori tutele e controlli per i lavoratori. Non è possibile fare il proprio lavoro in questo modo, sapendo che poi da parte dei cittadini non c'è il rispetto né delle regole né della persona che svolge le funzioni, che tra l'altro, considerato il lavoro che fanno, sono anche dei pubblici ufficiali. Quindi non va bene così. Dobbiamo parlare con l'azienda, dobbiamo parlare col comune per capire un poco cosa c'è da poter sistemare, diciamo, migliorare in questo ruolo che svolgono questi lavoratori. È impensabile che nel 2020 ancora si assista a certe azioni da parte dei cittadini per chi svolge correttamente il proprio lavoro. Noi come UGL abbiamo chiesto da subito un incontro sia con la società Gelas, che è quella che gestisce le strisce blusi, anche con l'amministrazione comunale, perché vogliamo capire cosa si intende fare per garantire anche la sicurezza a questi operatori che operano per la strada. È chiaro che è un atto che è ingiustificabile, perché picchiare un operatore, che peraltro svolge anche un ruolo importante nella città, sia a salvaguardia dei cittadini, sia anche alla salvaguardia per quanto riguarda il comune. Ed è impensabile che i cittadini, che per una multa di 28 euro, vanno a picchiare un operatore. La richiesta al comune, ma anche alla Galessa, è quella di fornire più tutela a questi lavoratori? Sì, più tutela e quindi trovare una soluzione più adeguata affinché questi operatori vengano garantiti durante la loro attività. Il pestaggio dell'addetto alla sosta è stato condannato anche dal primo cittadino. Siamo sconvolti, amareggiati e anche arrabbiati per quello che è successo, ha scritto il sindaco in un post su Facebook. Solidarietà e vicinanza totali al dipendente della Geras, al quali tutti auguriamo una pronta guarigione. Gli uffici del settore urbanistica non hanno personale a sufficienza, come è stato più volte sottolineato anche negli ultimi tempi. Centinaia di pratiche, piuttosto delicate, attendono di essere esitate. L'assessore Giuseppe Licata, dopo la nomina decisa dal sindaco Lucio Greco, ha tentato di trovare delle soluzioni, di riattivare una macchina burocratica in difficoltà. Si guarda con molta attenzione al condone edilizio, ci sono autorizzazioni da rilasciare e oneri da verificare. Come più volte è capitato, si apre ai tecnici esterni. È stato pubblicato un avviso pubblico per manifestazioni di interesse. L'assegnazione delle attività avrà almeno per ora la durata di 40 giorni e toccherà a tre geometri e un amministrativo occuparsi delle pratiche da istruire a supporto agli uffici comunali. Sono stati trovati circa 13 mila euro che dovrebbero coprire questo primo affidamento. Dopo la conclusione del rapporto tra municipio e società privata politecnica, le pratiche di condono sono state affidate a gruppi di professionisti che avevano già operato per conto della stessa azienda. Anche questa volta si tenterà di avere un sostegno esterno. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 7 novembre. Sulla scelta dei tecnici esterni, l'ultima parola tocca sempre all'amministrazione comunale. Il sindaco Lucio Greco ha firmato un'ordinanza che proroga per l'intero mese l'affidamento del servizio rifiuti alla Campana Tecra con la gara d'appalto andata deserta per 5 volte senza che ci sia ancora la possibilità per bandire quella da 7 anni. Il sindaco ha disposto la proroga per evitare il blocco delle attività. Sentiamo. Come ha riferito qualche giorno fa, la soluzione individuata dal sindaco Lucio Greco per non incorrere nello stop del servizio rifiuti in città e la proroga almeno per tutto il mese di novembre sarà ancora Tecra ad operare con 5 procedure di gara andate deserte con l'autorità anticorruzione che ha dissentito rispetto al nuovo contratto concluso con la società campana rivisto su alcune tariffe, al sindaco non è rimasta altra possibilità. L'avvocato ha messo la firma sull'ordinanza che proroga il servizio dopo un confronto con i primi cittadini dell'assemblea della SRR4. Anche i comuni di Butera, Niscemi, Mazzarino, Riesi, Deglie e Sommatino hanno autorizzato un'ulteriore proroga a Tecra visto che la Ecos SRL di San Cipirello a giudicataria della gara per il lotto dei sei centri non ha ancora stipulato i contratti. La situazione generale è piuttosto difficile da decifrare non è ancora chiaro se per il lotto di Gela si tenterà di nuovo la strada della gara ponte da un anno oppure si attenderà di concludere le procedure per quella da sette anni d'ambito. I vertici della SR4 a cominciare dal presidente Filippo Balbo attendono indicazioni dalla RUP della gara da sette anni Il dirigente del comune di Gela, Grazia Cosentino Se i tempi per arrivare alla gara pluriennale dovessero essere brevi allora si potrebbe andare avanti con ulteriori proroghe in caso contrario però si porrebbe la necessità di bandire nuove procedure di appalto La prefettura di Caltanissetta guarda con molta attenzione al servizio rifiuti ad un settore tradizionalmente sempre molto delicato nel quale ballano milioni di euro i PM della procura a loro volta non trascurano ogni risvolto Negli scorsi mesi sono state disposte perquisizioni anche a Palazzo di Città Il sindaco Lucio Greco nell'ordinanza che ha firmato scrive che è necessario assicurare la prosecuzione del servizio e ancora che ricorrono i motivi dell'urgenza per affidare mediante provvedimento extra ordinem la continuazione del servizio di raccolta rifiuti La proposta di un banco digitale è stata formulata dall'avvocato Francesco Giocolano esponente locale di Fratelli d'Italia direttamente da questa attestata che è già un primo seguito con alcuni imprenditori locali che hanno deciso di mettersi a disposizione Il banco sul modello di quello alimentare servirà a raccogliere donazioni di PC e materiale informatico da destinare a famiglie in difficoltà che in questo modo potranno consentire ai figli di seguire la didattica a distanza imposta dalle restrizioni anti-covid Ieri in videoconferenza Giocolano, gli imprenditori Maurizio Melf e Francesco Barone e ancora Francesco Sferrazzo, Orazio Trenito e Dario Antonucci hanno messo le basi per concretizzare l'iniziativa resa ancora più urgente in questa fase di emergenza sanitaria e profonda crisi economica per tante famiglie della città La proposta di Giocolano è stata rilanciata sui social della pagina Facebook se i quadri potessero parlare gelese che ha ripreso le parole dell'avvocato e quanto deciso invece dalla make di Melf con la società Benefit non si è discusso solo della materiale donazione di PC e del necessario per la didattica a distanza ma anche di creare le condizioni per rendere il banco informatico pienamente efficiente Lo spirito della mia proposta, dice Giocolano, era proprio questo superare le diffidenze e dare la possibilità a tutti di avere il pieno diritto allo studio anche quando non si hanno i mezzi economici a disposizione è lodevole il fatto che alcuni imprenditori e professionisti della città si siano messi a disposizione spero solo in un primo passo per avere una città migliore e più solidale soprattutto in situazioni di emergenza come questa Prodotti vietati chiuse l'indagine su due esercenti cinesi sono almeno quattro gli esercenti cinesi con attività commerciale in città finita al centro di un'indagine concentrata sulla vendita di prodotti da fumo non consentiti lo scorso maggio i finanzieri sequestrarono migliaia di filtrini e cartine che sarebbero stati venduti in assenza delle autorizzazioni del monopolio Il sequestro risale allo scorso maggio i finanzieri entrarono in diverse attività commerciali della città gestite da esercenti cinesi vennero sequestrati migliaia di prodotti da fumo, cartine e filtri messi in vendita senza autorizzazioni secondo le fiamme gialle quei prodotti in base alla normativa potevano essere rivenduti solo da attività autorizzate dai monopoli di Stato i PM della procura hanno chiuso le indagini nei confronti di almeno quattro esercenti di nazionalità cinese tra le ipotesi di reato che vengono contestate anche il mancato versamento delle accise per la vendita di questo tipo di prodotti e il contrabbando durante le attività di verifica negli esercizi commerciali furono sequestrati almeno 330.000 pezzi che erano stati posti in vendita i titolari delle attività sono difesi dall'avvocato Vittorio Giardino gli accertamenti partirono sulla scorta della nuova normativa che disciplina la vendita di questo tipo di prodotti autorizzati però soltanto per rivendite garantite dai monopoli di Stato e con tutte le necessarie concessioni autorizzazioni che secondo gli investigatori non erano nella disponibilità degli esercenti finiti sotto indagine è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti